E' arrivato qui in studio Stefano Nazzi, buongiorno Stefano! Buongiorno a voi, ciao! Come stai? Bene, grazie. Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Puntuale, come ogni primo del mese, è uscita la nuova puntata di Indagini, podcast che sta andando benissimo, un successone, uno dei podcast più ascoltati, scritto e raccontato appunto dalla voce di Stefano, la nuova puntata, il nuovo episodio parla del caso Tortora. Sì, è una storia un po' diversa dalle altre che abbiamo affrontato in Indagini perché non c'è un delitto, un omicidio, non ci sono scene del crimine, ma c'è un caso giudiziario che è forse il più incredibile, il più assurdo e molto importante della storia d'Italia, cioè l'arresto e il processo a Enzo Tortora. Allora, arresto e il processo che è avvenuto nel 1983 e Tortora credo che sia morto poi fine anni Ottanta. Tortora è morto il 18 maggio 1988, meno di un anno dopo che la Corte di Cassazione aveva definitivamente chiuso alla storia. Almeno questa è una piccola consolazione. No, te lo chiedo perché personaggio televisivo enorme, io ai tempi ero molto molto piccolo, ovviamente conosco il suo nome, non ho mai visto nessun suo programma quando ero piccolo, comunque magari ero davanti alla televisione ma non me ne rendevo conto. Mi è rimasto in testa questo caso Tortora, di cui però, mi sono reso conto ascoltando la tua puntata, ignoravo un po' anche la follia di questa storia. Mi aiuti anche a contestualizzarlo nel mondo d'oggi a chi potrebbe essere paragonabile? Enzo Tortora era come oggi? Guarda, no, non voglio fare i nomi perché... No, dai no, lasciando perdere tutta la parte processuale, come importanza e come fama. Ti ricordo che le puntate della sua trasmissione Portobello, che facevano più ascolti, facevano 28 milioni di persone, cioè una finale dei mondiali, non c'è niente di paragonabile oggi. Sì. È ovvio perché sono cambiati i tempi. Certo, è un Maria De Filippi, è un... È un Amadeus. Come fama, però forse come... come si dice, come percepito, era ancora più buono. Prima Walter mi diceva, era forse un Alberto, un Piero Angela. Sì, perché era un personaggio famosissimo, che andava in onda ogni venerdì sera, però era molto fuori dal mondo dello spettacolo, cioè si faceva molto... Anche un uomo di cultura. Era uno che stava con i suoi libri, che non amava andare in giro per feste, se ne stava a casa sua la sera, aveva pochi amici, tra cui Piero Angela, che erano veramente molto amici. E quindi la notizia del suo arresto, immaginati proprio una cosa, che ti dicono hanno arrestato quel personaggio, il conduttore più famoso d'Italia, perché? Perché, non perché spaccia droga, perché è un trafficante di droga, perché è affiliata la camorra con tanto di diritto di affiliazione, cioè si è tagliato il braccio, si è fatto uscire il sangue, la mischiata con quello del capo allora della camorra, Raffaele Cutolo, come se dicessero si è scambiato il sangue con Matteo Messina Denaro. Certo. E quindi è entrato... Quindi è una storia incredibile. Esatto, e questa è la parte scioccante se succedesse oggi così, la parte ancora più incredibile è che poi alla fine non c'entrava nulla. Tu sei molto bravo a buttare, quando inizia una puntata del podcast, direttamente l'ascoltatore dentro quella scena, perché tu inizi questo episodio dicendo immaginate di essere a casa vostra a dormire, lui era in albergo, a dormire, ti bussano alla porta, sono i carabinieri, tu non hai idea di che cazzo stia succedendo, ti mettono le manette e ti portano in prigione. E da qui incomincia la storia, raccontaci com'è andata. E non ti dicono neanche perché cosa ti stanno portando via, tu inizi ad ascoltare e dici ma no dai, e pensi, è un errore, fra due ore sono fuori, è durata quattro anni. Perché? Perché due pentiti di un'organizzazione criminale della Camorra avevano fatto il suo nome uno perché si era accodato all'altro, il primo perché era chiamato Opazzo, era veramente uno piuttosto a squilibrato, che già il nome dovrebbe minare la sua credibilità, sì. Ce l'aveva a morte con lui perché un suo compagno di cella aveva mandato dei centrini fatti all'uncinetto alla trasmissione di Tortora dove venivano mostrate cose fatte dagli spettatori che poi venivano mostrate, vendute in trasmissione e questi centrini si erano persi in un magazzino della RAI qua dietro. Allora questo Giovanni Pandico Opazzo aveva iniziato a scrivere a Tortora la trasmissione, alla sorella di Tortora che lavorava con lui in trasmissione dicendo tirate fuori sti centrini, cosa avete fatto? Tortora che era una brava persona se ne occupò anche e disse per favore trovate sti centrini, non vennero trovati. Quando Pandico si pentì iniziarono a chiedergli facci i nomi dei tuoi colleghi che ammorrisse, lui a un certo punto come sessantesimo nome al quinto interrogatorio fece anche quello di Enzo Tortora. I magistrati, i PM, i pubblici ministeri che lo stavano ascoltando dissero ma come Tortora? Però non fecero almeno apparentemente verifiche, non ci furono conferme di questa cosa, si accodarono a quello che dissero i pentiti, a quei pentiti se ne aggiunsero altri, alla fine erano 19 e poi ritrattarono tutti e poi si inserì un sacco di altra gente che iniziò ad accusare Tortora, i giornali ci andarono, sbrannarono l'osso e questa storia per quanto potesse sembrare incredibile. Prese forma, sì, prese forma e lui rimase in prigione. Lui rimase in carcere, venne prima a Roma, poi venne portato a Bergamo e rimase in carcere sette mesi e poi molto tempo agli arresti domiciliari. E comunque con la reputazione distrutta, con l'immagine distrutta. Lui stava preparando la settima edizione del suo programma, Portobello, che ovviamente non andò in onda, tornò in onda nel 1987 con una frase celebre, dunque dove eravamo rimasti, però poi si ammalò poco dopo. Incredibile. Mettiamo una canzone e poi andiamo avanti a parlarne di questa e di altre puntate, di altre indagini del podcast Indagini. Il pubblico vuole sapere chi sceglie i casi di cui si parla indagini di volta in volta? Beh, li scegliamo al post, li propongo io, ne parliamo, ne discutiamo e poi scegliamo. Una domanda che ha fatto un ascoltatore che però potrebbe tranquillamente essere la mia, che chiede quanto tempo mi dai ancora di indagini? Perché comunque riguardando casi molto famosi è un bacino che a un certo punto si esaurisce. Quanto ci garantisci che possiamo ancora aspettare il primo del mese per andare avanti? Beh, voi non avete idea di quanti casi ci siano in effetti che ancora si possono raccontare. Ce ne sono, ce ne sono. Ce ne è. Non so ancora quanto andremo avanti. Però insomma di materiale ce n'è. Di materiale ce n'è. Di materiale ce n'è. Esatto, perché poi si alternano, una cosa che io apprezzo molto, si alternano casi di cui volente o nolente conosciamo ogni minimo dettaglio perché poi il focus di indagini non è tanto il delitto in sé, lo spieghi tu sempre nell'intro, ma è anche capire quanto i media hanno influenzato e sono entrati dentro questo caso, no? Quindi ci sono dei casi che conosciamo perché ci hanno bombardato, non si parlava d'altro nei periodi in cui erano avvenuti. Altri, io per esempio alcuni mi sono dimenticato il nome, la storia del ragazzo ucciso a casa della fidanzata con il padre che... Marco Vannini. Marco Vannini. Io l'ho trovata un'altra storia, un'altra storia incredibile. Una delle mie più grandi paure è la paura dell'ingiustizia. Poi essendo io una persona molto razionale ogni volta dico, ma no Alessandro se non fai niente di male non ti succederà niente di male. I tuoi podcast mi gettano di nuovo però nel terrore perché molto spesso la giustizia fa delle cazzate enormi, cioè si perde proprio dei pezzi per strada. Sì, però vorrei anche rassicurare, cioè statisticamente... Scapita poco, no no certo è meglio comportarsi bene. Però... Però succede, è successo, probabilmente adesso succede molto meno perché ci sono anche dei mezzi di indagini, dei metodi di indagini anche scientifici, anche di controllo eccetera che aiutano molto chi fa le indagini e chi poi deve prendere decisioni. Però che ci siano gli errori, essendo la giustizia una cosa umana, ci sono anche gli errori. Anche perché è uno di questi, è chiaramente uno di questi. Noi secondo me siamo anche molto abituati e influenzati dai film che ci hanno sempre fatto vedere, in cui c'è un'indagine, arriva la scientifica, arriva il polizzotto super intelligente, interrogano il colpevole che a un certo punto crolle e dice ok sono stato io, lo devo ammettere. Però se non c'è un'ammissione rimane sempre un'ombra di dubbio intorno ai casi, c'è anche quelli che racconti tu, alcuni si sono oltre ogni ragionevole dubbio, però su alcuni uno può rimanere un po'... Certo, certo perché alla fine se tu metti in ordine tutte le cose è anche naturale che un dubbio ti rimanga. Poi ci sono delle persone che di professione devono escludere questi dubbi, devono prendere una decisione, sono i giudici e quindi questi dubbi alla fine loro scelgono di, se anche ci sono, dicono sulla bilancia pesa maggiormente, pesano le prove e tutti gli elementi di colpevolezza o di innocenza. Però se tu racconti le storie, se tu le ascolti, dei dubbi alla fine ti vengono. Qualcosina ti rimane. Un tema che ho trovato molto interessante nell'ultima puntata, quella su Enzo Tortora, è quello della responsabilità civile o penale dei magistrati quando devono prendere una decisione. In questo momento la situazione come è? Essendo un argomento che per fortuna non mi ha mai riguardato, com'è la situazione? No, la situazione è che diciamo più o meno è rimasto tutto come, non come era allora, ma i magistrati hanno un organo di autogoverno che è il Consiglio Superiore della Magistratura che si occupa anche di valutare se sono stati commessi, non degli errori, perché anche lì gli errori possono capitare, ma se vengono fatti delle cose che vanno al di là della condotta normale, che intenzionalmente hanno provocato dei danni e delle conseguenze. Allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco sempre con Stefano Nazzi, parliamo sempre di indagini, sempre su Radio DJ, a tra poco. Bentornati su Radio DJ, sono le 12.36, siamo in compagnia di Stefano Nazzi, podcaster, giornalista principalmente, negli ultimi tempi podcaster di uno dei podcast più di successo in Italia che è Indagini. Secondo me Stefano è arrivato il messaggio perfetto per farti spiegare bene da dove nasce l'idea di fare indagini, l'intenzione di indagini e poi eventualmente ti chiederemo qualcosa sui media. È un ragazzo, Andrea, che dice, anch'io ho la tua stessa paura, si riferisce ancora alla mia paura dell'ingiustizia, di subire un'ingiustizia, ma anch'io mi dico sempre che se non faccio nulla di male non ho nulla da temere. Poi però, per esempio, penso a Rosa e Olindo che pare siano innocenti e la paura torna. Rosa e Olindo non sono innocenti. Allora, pare che siano innocenti? Allora, c'è gente che è convinta che siano innocenti. Alla fine vale quello che decide. Noi ci diamo un sistema che è il sistema della giustizia, sono stati dichiarati colpevoli in tre gradi di giudizio finché non ci sarà una riappertura del processo, finché non ci saranno nuovi elementi di prova. Loro sono da considerare colpevoli. Dopodiché ognuno ha le sue opinioni. Il pare che siano innocenti però nasce poi da i media che si infilano dentro le vicende e possono spostare anche l'opinione pubblica. Indagini partono da lì, cioè dall'impatto che i media hanno su determinate indagini. Sì, perché al posto abbiamo pensato di raccontare i casi di cronaca cercando di non dare la minima influenza, la minima idea di ciò che si può pensare di un caso, ma mettendo in ordine proprio i fatti, gli atti, come i giudici sono arrivati a una determinata decisione. Questo spesso non viene fatto. Noi cerchiamo di farlo, poi è ovvio che abbiamo le nostre opinioni, abbiamo le nostre emozioni, però cerchiamo di arrivare, proprio di spiegare perché si è arrivati a determinate decisioni. Bisogna sempre sentire tutte le parti, non puoi sentire una parte, un testimone che dice, ah sì, loro sono innocenti o loro sono colpevoli, ci sono altri elementi. I media creano pressione, se decidono di allargare i gomiti i media riescono proprio a entrare in qualunque contesto e anche a spostare l'opinione. Possono spostare l'opinione di Andrea, ma possono spostare anche quella del giudice? Ovvio che non dovrebbe succedere, ma ci sono stati casi in cui secondo te il giudice ha preso una decisione non tanto su i fatti e i documenti, ma su il convincimento che il paese aveva magari nei confronti di un accusato? No, questo non credo perché i giudici devono essere capaci di reggere qualsiasi pressione. Certo, la pressione a volte è enorme. Mi raccontava il procuratore capo di Aosta che durante il caso di Cogne aveva i giornalisti fuori dal suo ufficio che chiedevano ma quando l'arrestate? Quando l'arrestate? E lei diceva ma questi cosa vogliono? Non sanno niente? Cioè delle indagini sono una cosa complessa. Non è che puoi dire arresto quella persona perché la gente si aspetta che venga arrestata. Cogne è stato il carrozzone più grande, mediatico? No, io credo sia stata a Vetrana. A Vetrana credo che non abbia uguali. Tra l'altro quando ho fatto appunto la puntata su a Vetrana una giornalista che passò settimane nel luogo disse in quei giorni vennero infrante qualsiasi regole del codice deontologico. Perché venne fatto di tutto. I piragna. Sì, sì, sì. Qualsiasi cosa che riguardasse la ragazza che era scomparsa e poi venne trovata uccisa ma anche i sospettati, gli amici. Devo dire poi ci fu chi se ne approfittò, che si presentò come io sono amico, io l'ho conosciuta, io sono stato fidanzato, io sono stato fidanzato con quell'altro che è stato a sua volta fidanzato. Quindi tutto una serie di contatti, interviste che centravano poco o niente con la storia in sé. A un certo punto c'erano gli imputati testimoni in diretta in televisione che dicevano la loro, intervistate. Tra l'altro appunto è un caso anche di scuola se vuoi perché era la mamma di Sara Scazzi, era in diretta televisiva a chi l'ha visto quando venne annunciato che era stato ritrovato. Ci furono anche molte polemiche su quella vicenda però sinceramente non so come altro si sarebbero potuti comportare i giornalisti. Ti arriva una notizia non puoi non darla. Anche lei che la riceve, il pubblico poi inizia a giudicare la reazione della madre però è una madre alla notizia del ritrovamento. Cosa ne sai? Cosa ne sapete? Cosa ne sai di come reagisci al dolore? Come reagiresti tu? È la stessa cosa del caso Tortora che i giornali scrissero ma guardate come era calmo ma come puoi sapere come reagisci? O la stessa Anna Maria Franzoni dissero era fredda mentre suo figlio era morto ma ognuno reagisce al dolore secondo chissà quali logiche. Guarda ti stavo raccontando prima ho sentito tutte le puntate appunto le sento ogni primo del mese. Quella di Cogne mi ricordo che ero in macchina da solo a un certo punto ho interrotto detto devo prendermi una pausa perché quella era veramente per quanto appunto il tuo stile sia di racconto anche assettico no? Cioè non sei un pruriginoso che va nei dettagli però una storia che è veramente disturbante. Non sei solo molti altri hanno scritto dicendo che questa storia non sono riusciti ad arrivare alla fine. Dall'altra parte sapete che è la storia che più ha tirato forse l'attenzione degli italiani negli ultimi vent'anni. Certo. È una storia in cui un avvocato poi disse che per la prima volta la televisione entrò a far parte della strategia difensiva nel senso che venne proprio decisa una sorta di scaletta di programmi a cui fare intervenire la persona sospettata che poi fu condannata perché si era capito che riusciva a creare anche empatia col pubblico. Quindi la televisione venne anche usata se ne parlava ogni sera ogni pomeriggio. C'è un caso di quelli che hai raccontato che ti lascia un po' col dubbio che non sia stata presa la decisione giusta? No, ci sono casi che non riesco a capire come non riesco a capire, è facile dirlo, come non siano arrivati a una soluzione tipo una bomber. Mi lascia perpresso pensare che si possano piazzare trento ordini in giro per Friuli-Venete. In un triangolo così. In sei anni e non si sia mai arrivati a nessuna conclusione. Adesso tra l'altro è stato riaperto il caso, vediamo. No, che ci sono casi in cui dici, vabbè ma sono stati fatti molti errori prima di arrivare a quella conclusione. Beh Stasi forse è uno dei principali, no? In caso di Garlasco furono fatti errori a partire proprio dalla scena del crimine, però poi questi errori vennero recuperati, quindi non so se alla fine la decisione si possa dire non è corretta. Stefano, grazie mille, io quando sei venuto a trovarmi stasera a Cicattelan ho provato a estorcherti, allora uno spoiler, non lo fai mai, ci hai dato un indizio, ci avevi detto magazzino Rai. Sì. Vuoi darci un indizio del prossimo appuntamento? No, è troppo presto. Troppo presto, troppo presto. Non mettiamo il carro davanti ai buoi. Ma tu hai già deciso però. Sì, sì, sì. Mi avevi raccontato che voi finite più o meno entro il 10 del mese. Sì, finisco di scrivere e poi registriamo con Iming, Stefano, Valentina, Matteo Caccia che è il capo dei podcast. Mi aveva colpito che dicevi la registriamo, poi la lasciamo riposare 3-4 giorni, dopo 3-4 giorni la riascoltiamo e vediamo se va tutto bene. Avete un momento di The Canter. Di The Canter e poi la riascoltiamo, io poi la riascolto un sacco di volte e mi accorgo delle cose a volte solo all'ultimo secondo. Eh ci sta, ci sta, ci sta. Stefano grazie mille, quando vuoi passare a trovarci noi siamo qua, ci vediamo allo stadio domenica e ci si vede, ci si vede lì. Grazie mille Stefano. Grazie.